Una tipa non ci prova con un tipo, a meno che puntini puntini e adesso a breve vi spiegherò come stanno le cose. Ecco, io oggi devo essere purtroppo negativo con voi, me ne rendo conto, ma qualcuno come me deve dire certe cose per farvele capire e per farvele entrare in testa. Sia chiaro, io non pretendo di ipotizzare che la mia opinione sia sacra, io non pretendo di ipotizzare che le parole che a breve ascolterai corrispondono esattamente al vero e a verità, però pretendo che la mia opinione venga esposta, venga trasmessa. E vi posso garantire che secondo me una tipa, una ragazza, una fanciulla, una donna, non ci prova con un uomo o con un ragazzo. A meno che sia un uomo, un ragazzo che le piaccia moltissimo, che sia un Gabriel Garco in forma, diciamo così, umana completa, che sia un figo della Madonna e soprattutto che sia un uomo ricco, un ragazzo ricco, benestanti. Altrimenti la ragazza, la donna, sta lì per i cazzi suoi, ok? Ora, quando è che una ragazza, la donna ci prova in un momento con un ragazzo? In compagnia, cioè quando lei sta con delle amiche, perché anche da sola, pur avendo davanti a sé un buonazzo, un figo, un figo da paura, la ragazza, la fanciulla, non è così partecipe, non è così diretta, che va lì a dire, oh, sai che mi piace, mi piacerebbe uscire con te, col cavolo che lo fa questo, ok? In genere la donna e la ragazza aspetta che si faccia avanti quello a cui piace, ok? Ci state fin qui? Bene, benissimo. Ora, ci prova quindi la ragazza? Se sei un bel figo probabilmente sì, ma non è sicuro, perché anche il bel figo, secondo me, rimarrà lì dove sta a pippare, ok? Quindi, perché non ci prova la fanciulla? Perché la fanciulla, a livello etico, morale, caratteriale, è profondamente diversa rispetto all'uomo. L'uomo, se potesse, ci proverebbe con tutte, tanto però nessuna gliela va a dare all'uomo, ok? Quindi rimane lì a fare la bella statuina, ok? Gliela darebbe la donna e la ragazza se fosse un Gabriel Garco, se fosse un figo, se fosse un belloccio, se fosse, diciamo così, un pezzo di Marcantonio, altrimenti col cavolo che un uomo ragazzo troverebbe una figlia, una fanciulla, una fidanzata, ok? Perfetto. Ora, se io uomo ci provassi con una manciulla, zero spaccato. Se un belloccio ci provasse, probabilmente qualcosa accadrebbe, ma non è sicuro. Sono convinto infatti che la ragazza si chiuderà liscio, anche se noterà il bel figlio, ok? Si noterà che è un bel figlio, ok? Però siccome non ha tempo, siccome è ritro, siccome è triste, siccome non io ha tanto di perdere tempo, sarà un po' per i fatti suoi, va bene? E poi all'ultimo abbiamo il cesso, il cesso proprio non viene considerato, viene proprio direttamente ignorato, o non viene guardato nemmeno, non viene nemmeno degnato di uno sguardo, di uno sguardo apparente in apparenza, o non viene degna un cazzo, va bene? Quindi, questa è la situazione dei fatti, questa è la mia opinione, questo è quello che vi posso dire a proposito del mio pensiero, del mio pensiero a proposito di questa situazione qua. Detto ciò, io vi ringrazio, sono stato breve, mi rendo conto, ma lo spiegò efficace, esaustivo, iscrivetevi al mio canale, canale di Conosciuto Italiano, commentate, un saluto nei cari e al prossimo video una buona giornata a voi.